Per far fronte al problema dell'importazione del modello all'interno di Spaces di EnvyMet, ho costruito questa definizione di Grasshopper ispirata al lavoro del già visto fatto da Antonello Dinunzio per la suite Ladybug nel quale con il tool EnvyBug appunto lui è andato a costruire nodi in grado di esportare e di leggere i risultati di EnvyMet. Il mio contributo ricalca la sua filosofia e la estende aprendosi anche alla rilettura e modifica in futuro del file INX. A differenza del lavoro di Antonello che è sviluppato direttamente in Python, io mi sono avvalso di diverse plugin e in particolare oltre alle interprete Python, Eccolo qui, abbiamo anche Ladybug, Wombat che abbiamo già visto e in più questa volta aggiungiamo Human, Autograph e MetaHopper. Quindi una volta installati andiamo a vedere questo file di Grasshopper più da vicino e capiamo quali sono le sue potenzialità. Qui lo apriamo da questa parte, ho cercato di comporre nella parte sinistra del file una sorta di scaletta da seguire per ottenere un file INX a partire dalle geometrie modellate su Rinoceros piuttosto che su AutoCAD e importate quindi all'interno di questo. Vediamo invece qui su Rinoceros la geometria in giallino che può rappresentare l'orografia del terreno e delle geometrie grigie da questa parte che rappresentano gli edifici. In più ho inserito nella parte in basso a sinistra, qui, un punto che rappresenta lo zero del mio modello e devo fare solo attenzione che tutto quanto il modello, se lo guardassimo dall'alto, deve rimanere nella parte sottostante l'asse X. E presto capiremo il perché. Queste due geometrie per ora non hanno comunque bisogno di essere inserite in layer particolare, anche se io per ordine ho inserito giustamente il terreno in terrain e il building in building. Iniziamo a vedere quindi come procedere per esportare queste geometrie e vediamo qui sulla sinistra, nella finestra di Rasso, per come eseguire questa procedura che vi ricordo parte dall'alto e va verso il basso seguendo questa freccia appunto disegnata per ricordarlo. Per iniziare si possono inserire qui nel general info, nella prima parte, un po' di informazioni come ad esempio la descrizione del modello piuttosto che il nome dell'autore che per ora lasciamo di default. Mentre nella seconda parte è possibile inserire altri dati come ad esempio la longitudine, la latitudine e quant'altro, che sono i valori che abbiamo già visto nelle impostazioni di Spaces. Per rapidità questa volta lasciamo tutto così. La terza parte invece è quella che riguarda i valori della griglia, quindi abbiamo il dimensionamento x, y e z, effettivamente in quadrati che la compongono, piuttosto che il numero dei quadrati di nesting, ovvero i quadrati bianchi ai bordi di questa. C'è anche il base point e poi vedremo come impostarlo, che altro non è che questo punto qui in basso a sinistra. Per mantenere la griglia quadrata ho inserito un solo slider per definire sia il dx che il dy, quindi per mantenere la griglia quadrata, mentre il dz è comunque lasciato libero. La quinta parte è quella invece dedicata all'inserimento degli oggetti come il terreno piuttosto che gli edifici e in futuro in realtà conto di inserire anche altri elementi come il single wall, le piante e quant'altro. La sesta invece, per concludere, è quella dedicata ai materiali. Infine, l'ultimissima e la settima, quella per il salvataggio del file.inx, che vi ricordo dovrà essere salvato all'interno del progetto, quindi adesso l'andrò a modificare in quanto non può essere salvata sul desktop, visto che il desktop non è il mio workspace e quindi non contiene le cartelle dei miei progetti. Quindi vado a prendere l'indirizzo, il percorso del mio progetto, in particolare quello che stiamo seguendo, che è quello di Roma, copio il path e lo vado a inserire qui. Allora sarà c envymet roma, rimetto il backslash, c envymet project roma test envymet inx, quindi test envymet inx è il nome del file, e quando andrò a salvare, lui lo andrà a mettere direttamente qui. Quindi vado a prendere l'indirizzo, il percorso del mio progetto, in particolare quello che stiamo seguendo, che è quello di Roma, copio il path e lo vado a inserire qui. Allora sarà c envymet roma, rimetto il backslash, c envymet project roma test envymet inx, quindi test envymet inx è il nome del file, e quando andrò a salvare, lui lo andrà a mettere direttamente qui. Andiamo quindi a vedere operativamente cosa bisogna fare. Per rapidità, come già detto, lasciamo di default le informazioni generali, piuttosto che quelle riguardanti il modello, perché che sia Roma, che sia Essen in questo momento non è importante. E andiamo a vedere direttamente la terza scheda, dove appunto ci sono le informazioni della griglia, e per visualizzare questa griglia la primissima cosa da fare è impostare il base point. Abbiamo detto il base point è qui in basso a sinistra, lo selezioniamo, clicchiamo con il tasto destro, set to one point. Visto che è andato a buon fine, l'etichetta diventerà grigia, e comparirà sulla sinistra una griglia di 25 quadrati per 28 quadrati, per 20 quadrati che in realtà non vengono visualizzati questi in verticale. Andiamo a vedere, questo base point è posizionato, tra l'altro, oltre che in basso a sinistra, anche nel punto più basso del mio terreno, in modo tale da considerare zero questa quota. Nel caso i valori della griglia non siano adatti, impostiamoli in modo adeguato, e otteniamo quindi un modello che rientra all'interno di questa. Proseguiamo con l'impostazione dei delta, che per ora lascia a 4, e andiamo a vedere più in basso di impostare le geometrie, che abbiamo detto quelle del terreno e quella dei building. Assegniamolo come abbiamo fatto precedentemente con il base point, cliccando semplicemente prima sulla geometria e poi con il tasto destro set one prep, questa diventa sempre grigia, mentre faccio una selezione, tolgo dalla selezione questo punto, faccio una selezione multipla per gli edifici, e con set multiple reps vado a impostare quindi anche gli edifici. Se tutto è andato a buon fine, clicco due volte su quest'etichetta e la faccio diventare vera. Qualche istante d'attesa e posso vedere che c'è subito un'anteprima dei cubetti che rappresenteranno le geometrie. Posso decidere addirittura di andare in visualizzazione webframe e vedere quindi che non è esattamente quello che mi aspettavo. Questo edificio a corte non viene costruito come dovrebbe, neanche quest'altro a sorta di cilindro bucato. E allora per migliorare questa cosa posso decidere di aumentare la segmentazione orizzontale, quindi del DX e del DY, che posso decidere di portare a 3, per esempio. Ma questo comporterà una diminuzione della griglia, quindi avrò bisogno magari di inserire un 40 su X e 40 su Y. Adesso la esagero volutamente, in modo da poter coprire tutto quanto il mio modello. Quindi definito l'aspetto finale della suddivisione della griglia, andiamo quindi a definire i materiali che devono essere assegnati per forza, ma questo non significa che questi non possano essere i materiali standard per i wall e per i roof, che vi ricordo è il materiale di default 00, ovvero cemento semplice. Per farlo quindi andiamo nella parte sesta, dove incontriamo appunto i materiali, e andiamo a cliccare su Materials semplicemente. Questo qui farà una copia nella parte sopra l'asse X, che è l'asse rosso. Questa copia del nostro oggetto però sarà costituita, andiamo a vedere in Shaded, da elementi quindi non cubettosi, tra virgolette, ma solo elementi suddivisi in facce. Queste facce qui, tra l'altro vi dico una cosa, di default lui inserisce tante crocette sopra ogni faccia. Possiamo disabilitarle andando qui sulle proprietà e spegnendo Show Surface ISO Curve, eccolo qua, togliamolo, in modo tale da avere un'interfaccia un po' più pulita. Per assegnare i materiali a questa geometria, non serve altro che inserirlo in appositi layer, denominati con una certa nomenclatura, che è questa. Facciamo intanto il new layer, lo chiamiamo MAT, e poi la sigla che ci interessa, per esempio 00, quindi per il calcestruzzo standard. Poi possiamo crearne anche subito di nuovi, con MAT, per esempio, GH, ok, e così via. Possiamo dare dei colori, anzi qui, per correttezza mettiamo un grigio, piuttosto MAT GH mettiamo un blu, e diamo a tutto quanto il grigio. Assegniamo tutto MAT 00, e solo ad alcune parti, giusto per capire le potenzialità di questo approccio, in questa maniera qua, piuttosto che selezionando una, due e tre qua sopra, li andiamo a inserire nel layer MAT GH. A questo punto, se abbiamo completato questa impostazione, andiamo su Build Material, ci vuole qualche secondo, perché questa produca i suoi effetti, quando ha finito, clicchiamo su Save. Vi ricordo che, a questa, a questo percorso, dovremmo ritrovare, abbiamo una cartella qualsiasi, dovremmo ritrovare Test Envy per TNX. Ora, lo apriamo, e andiamo a vedere, se è andato tutto a buon fine. Innanzitutto, andiamo a caricare Roma, e vediamo che, di default, il modello è già tridimensionale, quindi, è già, come spiegato in precedenza, un modello, a cui è possibile modificare, i materiali, ed è possibile aggiungere, anche, elementi avanzati, come il single wall. Questi elementi 3D, questo modello 3D, però, va salvato, inizialmente, in modo tale, da far riscrivere, a EnvyMet, a Spaces, fargli riscrivere, il file INX, nella corretta formattazione, per non incorrere, in eventuali problemi, di visualizzazione. Quindi, una volta salvato, lo chiudiamo, lo riapriamo, andiamo, nell'open 3D view, e, già da subito, vediamo, che, abbiamo già, due materiali, questo qui, di default, grigio, che è, il materiale concrete, e, le parti che avevamo, selezionate, comprese, queste tre, queste tre finestrelle, sono, il materiale GH, che in questo caso, corrisponde a un materiale, trasparente, traslucido, e, quello che manca, nella visualizzazione, è il demo, possiamo accenderlo, e, vediamo, che corrisponde, a quello che avevamo disegnato, ovviamente, in una versione, un po' più cubettosa, importante da notare, che, è sparito, o è sparita, una parte, dei nostri building, che è quella, costituita, dal cilindro, ma, non è che è sparita, davvero, perché, in 2D, noi la vedevamo, in 3D, invece, sembra, sembra essere scomparsa, però, se andassimo ad accendere, la visualizzazione, della griglia, capiremmo, che questa, in realtà, esiste, ma, non ha nessun materiale, ora, questo problema, è dovuto, al fatto, che, dentro l'inoceros, sono state create, delle geometrie, non manifold, non sarò qui, a spiegarvi, più di troppo, però, vi invito, a fare una ricerca, su Google, per capire, di che cosa stiamo parlando, per correggere, questo problema, possiamo farlo, tornando, su rinoceros, e, per esempio, eliminando, questo foro, che, che crea, appunto, delle superfici, non manifold, allora, spegniamo, building object, in modo tale, che lui, non calcola, continuamente, la, il, la segmentazione, della geometria, ho avuto cura di cancellare, nella parte superiore, i materiali, e andiamo a ricostruire, il, il cilindro, in questa maniera, ok, e cancelliamo, l'extrusion, qui, eh, dobbiamo, ovviamente, rinserire, i building, di nuovo, possiamo costruirli, farli costruire, con building, build objects, qualche istante di tempo, è costruito, il cilindro pieno, questa volta, eh, ricostruiamo, i materiali, li assegniamo, assegniamo, per esempio, a tutto quanto, matt, matt.gh, poi ad alcune parti, per esempio, a tutto quanto, questo edificio, il materiale, matt.gh, possiamo, far costruire, i materiali, quindi, qualche secondo, e andiamo, di nuovo, a salvare il file, così, lui non ci chiederà nulla, però, avrà sovrascritto, tranquillamente, il file, quindi, nel caso, facciamo con cura, questa operazione, lo apriamo, salviamo, da subito, chiudiamo, e riapriamo, di nuovo, questa operazione, è necessaria, ve li ripeto, per costruire, con, con la formattazione, adeguata, il file, andiamo su 3d model, open 3d view, ed è comparso, di nuovo, il cilindro, ovviamente, anche il dem, è al suo posto, come potete vedere, però, questi edifici, non seguono, l'andamento, del terreno, perché, seguono, piuttosto, la posizione reale, in cui erano posizionati, questo significa, che se io, volevo, un edificio, basato su piloti, avrei semplicemente, dovuto, alzarlo, staccarlo da terra, alzarlo dal terreno, in modo tale, che questo, appunto, venisse, salvato, in una posizione, più alta, più rialzata, è come, quindi, se questi edifici, fossero stati costruiti, all'interno di, di Enlimet, all'interno di Spaces, tenendo, l'impostazione, use absolute z data, quindi, ignorando, l'altezza del terreno, e l'altezza del terreno,